Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio, costituitosi appena un anno fa, è Niccolò Rigacci, 46 anni di professione informatico. Vogliamo un centro storico che sia un salotto, vogliamo un centro storico dove sia possibile mettersi a un tavolino fuori a sedere senza che passi l'autobus e senza che passino le macchine. Ma basta andare a vedere là dove i centri storici piccoli funzionano e vedere come funzionano. Là dove funzionano non funzionano grazie al fatto che ci possa arrivare in macchina, funzionano perché ho delle attrattive che mi portano a stare nel centro storico. Altro esempio che posso fare, io vorrei che gli uffici comunali fossero tutti concentrati nel centro storico, vorrei poter avere altri punti di attrazione. La biblioteca che ha il comune non può stare a distanza di 4 km dal centro storico per cui devo prendere mezzi pubblici o l'automobile. Voglio che sia per esempio a Villa Ruscellai. In quel modo invogli i cittadini a stare nel centro storico invece di fuggire continuamente fuori. La lista dei candidati del Movimento 5 Stelle me la descriva in poche parole. Il nostro punto di forza vero è quello che siamo tutte persone della società civile, tutte persone che non hanno militato in partiti politici e quindi che non rispondono alle logie di partito e tutte persone che non rispondono neanche a lobby di potere. Sono persone assolutamente normali, persone che lavorano, persone che studiano e che semplicemente hanno deciso di mettersi in gioco, di mettere la propria faccia per costruire un futuro migliore.